ragazzuoli ragazzuoli benvenuti sullele king tv che facciamo oggi che facciamo che facciamo facciamo il cielo mi manca della raccolta di fifa 365 2020 terz'ultima puntata del cielo mi manca perché dopo di che faremo l'ordine alla panini come ho detto nel video spacchettamento mancano ormai dieci pacchetti quindi significa oltre a questo video altri due video di spacchettamenti in altri due cielo mi manca e dopo sarà fatto l'ordine e completato al cento per cento questa raccolta perché ormai ci siamo manca veramente poco quindi mi raccomando lasciate tanti pollicioni all'insù tanti 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 e iscrivete al canale se non siete iscritti e condividete il più possibile il video così saliamo subito arriviamo a raggiungere riusciamo a raggiungere i 10.000 iscritti allora prima figurina abbiamo trovata che abbiamo trovato è la numero 10 e ci manca e dai su delict mi tema e mani che vanno qui e ci mancano quindi abbiamo completato completamente questa pagina relativa al world top clubs team and players a video guarda che roba guarda che roba l'abbiamo completata guarda 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 che roba ragazzi che roba l'abbiamo completato perfetto poi abbiamo il celsi dove abbiamo i giocatori in movimento questi qua che ce l'abbiamo quindi doppione e anche la numero 24 ce l'abbiamo altro doppione e adesso sta cominciando ad andare leggermente peggio liverpool non abbiamo trovato niente manchester city invece abbiamo trovato ma abbiamo trovato un bel doppione perché abbiamo bernando silva e sergio aguero col 55 che doppione quindi andiamo ancora avanti giriamo pagine troviamo un altro doppione ma ormai mancano veramente pochissime figurine quindi è normale dalot e l'indeloff sono doppioni matice e james uguale perché l'abbiamo completato ci manca soltanto lo stemma e living football per completare la squadra poi abbiamo la 111 quindi dobbiamo saltare parecchie pagine tra cui anche il barcellona arrivare al madrid e la 111 scopriamo che ce l'abbiamo che varan e militao poi abbiamo però i giocatori in movimento che sono le 100 il 118 modric cross e isco e questi ci mancano e dai e esso due esso due ragazzi festeggio perché quanto mancano mancano veramente pochissime figurine è difficilissimo difficilissimo trovarle nei pacchetti mancanti è molto più semplice magari scambiarle che trovarle così e invece noi adesso abbiamo questi ultimi pacchetti e ce li spariamo piano piano nei video nei prossimi video e poi vedremo andremo avanti con con l'ordine 152 ce l'abbiamo di maria e cavani poi 181 181 ce l'abbiamo dosta eccolo sancho e hazard ce l'abbiamo poi abbiamo del napoli la 260 quindi dobbiamo saltare lo shalk 04 poi dobbiamo saltare l'olimpiagos l'inter la juventus e arrivare al napoli che come vedete è doppione anche questa è anche i kalejon e insigne sono doppioni andiamo alla 290 che lo spartac mosca la 290 ce l'abbiamo eccola qua e 297 altro doppione qui sotto 301 ce l'abbiamo perché il bocca l'abbiamo completato manca soltanto manca soltanto 312 giocatori in movimento ragazzi soli giocatori in movimento mancano al river plate manca qualche figurina più ma però trovo soltanto armani e casco e ce l'abbiamo 345 nella pagina subito dopo e ce l'abbiamo ancora qui in altra un altro doppione ci mancavano i doppioni ci mancavano ci mancavano ho 347 le maglie del palmeiras e questa ci manca come va di moda adesso ragazzi godo come un riccio come un riccio appena nato che cosa significa non lo so va bene ragazzi comunque 358 ok poi andiamo avanti 386 questa è doppione eccola qui e 390 altro doppione qui ce l'abbiamo tutte quindi a 406 è doppione la 408 invece qui sotto ci manca del calcio femminile meno male eccola qua la 430 ce l'abbiamo che questo trofeo che la coppa di mondo del mondo di calcio femminile 436 ce l'abbiamo io ragazzi avevo detto nel video di spacchettamento chissà se ce l'ho questa figurina e invece ce l'ho è doppione ragazzi abbiamo messo soltanto quattro figurine soltanto quattro figurine ma quanto ne mancano poche non c'è niente da fare non c'è niente da fare ragazzi è così è così è così quindi ci apriamo quest'ultimi dieci pacchetti poi faremo l'ordine alla panini e cerchiamo di completare al cento per cento anche questo album io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti